Siamo in compagnia del signore Bruno Uru, come si chiama la nostra azienda? L'azienda agricola Follini, Lidia e Amorri, di Bruno. Di dove siete? Siamo di Pepetoli. E cosa producete? Noi produciamo olio di oliva, produciamo oliva scolana di Piceno, poi produciamo cereali, verdure, poi poche altre cose, insomma, mandorle, frutti sui, e nient'altro. E la vostra esperienza è nata con il biologico? La nostra esperienza si è nata proprio con l'intento di stare in campagna e produrre in maniera felicità, quindi è nata più di venti anni. Quindi fate la ricoltura biologica a prossimo tempo? Sì, ci sa moltissimo. Siamo certificati da dieci anni. Va bene, grazie. Prego. Arrivederci. Buonasera.